Perciò ci fa anche quest'anno rinventiamo la processione di San Paolo vestito come tradizione da vari anni, sempre sulle frequenze tirate di antenna campagna. Per la Madonna? Per la Madonna Dolorato. Una bella e bella processione perché infatti sfilano immediatamente e correttamente. Sono esattamente alle ore di San Paolo. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti